In Piemonte l'attenzione alla terapia del dolore e la capacità di fare rete tra ospedale e territorio sono più spiccate che in altre regioni italiane. Lo conferma il progetto LinkUp, un'indagine condotta dall'Associazione Vivere Senza Dolore nel primo semestre 2013, i cui risultati sono stati presentati a Palazzo Lascaris nell'incontro organizzato dalla consulta delle lette. Sono intervenuti la presidente Giuliana Manica, l'assessora alla sanità Ugo Cavallera, Marta Gentili dell'Associazione Vivere Senza Dolore e Rossella Marti della Commissione Terapia del Dolore della Regione.